Ciao da Afsim! Sabato dopo Lazio-Juventus siamo andati a dormire con una riflessione tra le tante. Ma perché? Perché ancora una volta la Juventus non può scendere in campo con il tridente pesante, come è stato definito da Sarri, come viene definito da noi, diciamo, anche dai giornalisti, da chi osserva il calcio e questa Juventus. Insomma, con il tridente, quello importante, Iguain di Bala-Ronaldo, anche detto tridente in HDR, se vogliamo, ma comunque perché la Juventus non può scendere in campo con un tridente e quindi torniamo al discorso del modulo, del 4-3-3. E sì, perché Sarri lo ha detto più volte ed è sembrato anche convincente, ossia in questo momento per quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che dovrebbero comporre questo tridente, ma anche per una serie di situazioni che si verificano a centrocampo e quindi una serie di caratteristiche del reparto di centrocampo non possiamo reggere questo tipo di impostazione tattica dal primo minuto né per larghi tratti di partita, ma solo per qualche spezzone quando dovesse rivelarsi necessario. Questa è la versione di Sarri, l'ha ribadita più volte e in ultima istanza proprio post Lazio o pre Lazio, non ricordo bene, comunque in questi ultimi giorni ha rimarcato soprattutto il discorso delle caratteristiche dei giocatori, era pre Lazio, le caratteristiche degli attaccanti in particolare, rivendicando il fatto che Di Bala non è una punta, è una seconda punta, o meglio è un attaccante, prevalentemente seconda punta, ma è un attaccante e soprattutto non è un trequartista, per cui non può andarsi a mettere dietro Iguain e Ronaldo e dall'altra parte Ronaldo dovrebbe essere un centravanti ma predilige partire da sinistra, così come non puoi togliere a Ronaldo quella prorogativa di partire da sinistra perché ci ha costruito una carriera fenomenale, né puoi togliere a Di Bala quella tendenza di abbassarsi per venire a prendere il pallone dai centrocampisti perché con quei movimenti sprigiona tutte le sue qualità migliori, tutti i suoi pregi. Queste sono le parole di Sarri. Ripeto, non sono cose assolutamente non condivisibili, anzi c'è bisogno secondo me di osservazione, di comprensione e di rispetto. Sarri ha detto questo, ci fidiamo, ma la domanda resta. Proviamo a vedere per esempio tre squadre paradigmatiche che scendono in campo sistematicamente da anni con il tridente. In particolare due, e cioè Barcellona e Liverpool, che di questo approccio tattico hanno fatto uno dei loro punti di forza e sono simboliche da questo punto di vista. Quando pensi al 4-3-3 dici Barcellona, dici Liverpool e dici anche Paris Saint-Germain, che è la terza squadra. Ora chiaramente non esiste la proprietà transitiva nel calcio, quindi non puoi dire che siccome una squadra fa una cosa può farlo anche un'altra squadra. Anzi, chiaramente bisogna tener conto delle caratteristiche dei giocatori e i giocatori cambiano di squadra in squadra. Un giocatore gioca per una sola squadra, quindi chiaramente non si può fare nessun tipo di parallelismo. Possiamo soltanto osservare come fanno gli altri e chiederci se ci sono dei parametri, dei riferimenti che possiamo ritenere utili da portare anche nel nostro territorio, nel nostro recinto, nel nostro spogliatoio e nella nostra squadra, nella Juventus. Il Barcellona. Sicuramente paragonarsi al Barcellona è abbastanza ambizioso, è quasi fuori luogo, perché soprattutto dal punto di vista tattico, il Barcellona viene da una lunga tradizione che è passata attraverso il tiki-taka e ha conosciuto anche altre espressioni di calcio tipiche, paradigmatiche, esemplari e soprattutto vincenti, che è difficile replicare, molto difficile replicare, perché hanno un loro stile particolare che li caratterizza da molto tempo e la Juve non può pensare di essere il Barcellona. Però nel loro contesto, il Barcellona gioca ormai da molto tempo con Messi, questa stagione gioca con Messi, Suarez e Griezmann da destra a sinistra e già vediamo qualcosa, già possiamo dire qualcosa, perché alla fine Griezmann ha dovuto comunque adattarsi per essere inserito in questo tridente. Ricordate che all'inizio c'era un pochino di dubbi su come potessero effettivamente convivere Griezmann e Messi per un discorso che comunque Griezmann ha giocato anche esterno-destro in passato e quindi poteva andare a pestare i piedi a Messi, invece Griezmann ha dovuto adattarsi e si sta adattando e i risultati sembrano abbastanza positivi, ma comunque parliamo di un tridente titolare fisso, che è quello lì. Ora, sicuramente un tridente del genere per essere retto, per utilizzare la terminologia di Sarri, cioè per poter reggere, per poter sostenere questo tridente c'è bisogno anche di un centrocampo. E anche qui veniamo a delle peculiarità che sono quelle del Barcellona, non replicabili alla Juventus, però il centrocampo titolare del Barcellona è De Jong, Busquets, Arthur. Ora, togliendo Busquets, che anche lui è paradigmatico nel suo ruolo, è inarrivabile, è impareggiabile. De Jong e Arthur, De Jong è stato inserito in questi primi mesi di stagione, cioè quest'anno, perché l'anno scorso era all'Ajax, Arthur pure è stato inserito da poco, eppure lui è 22-23 anni, quindi è molto giovane, e in sostanza quindi non parliamo di questi centrocampisti di straordinaria qualità. De Jong è fortissimo, attenzione, anche Arthur, ma non parliamo di giocatori già esplosi al 100%, parliamo di giocatori che hanno grande margine di miglioramento e che tanto li riteniamo forti in quanto giocano nel Barcellona, probabilmente. Ma, se andiamo a vedere le specifiche caratteristiche, soprattutto Arthur è ai top al mondo perché gioca nel Barcellona e quindi chiaramente ha un valore di mercato e una visibilità tutta diversa, ma non stiamo parlando di quel centrocampista straordinario e irripetibile che solo il Barcellona ha e per cui senza Arthur, senza De Jong non puoi reggere quel tipo di attacco. Insomma, entrando nel contesto Barcellona e provando a destrutturare la loro condizione, la loro situazione tattica, il loro approccio tattico, vediamo che qualcosa, va in qualche maniera, qualche elemento va a sbuggiardare questo discorso della insostenibilità del tridente, per come la vedo io, ripeto, perché abbiamo il giocatore che in qualche maniera si adatta alle caratteristiche degli altri, abbiamo un centrocampo giovane che quindi ha anche margini di miglioramento, insomma, giovane anche perché è assemblato da poco e quindi ci sono delle caratteristiche che ritroviamo anche alla Juventus, loro però si sono spinti, tra l'altro con un allenatore che non stimo tanto e che secondo me per qualità è inferiore a Sarri come Valverde, a fare qualcosa di difficile, noi ci stiamo frenando forse un po' prima nel discorso. Veniamo al Paris Saint-Germain che schiera prevalentemente in questa stagione Di Maria o Sarabia, Icardi e Mbappé o Neymar che poi è spesso infortunato. In realtà c'è stato anche Mbappé al centro dell'attacco, c'è stato Ciupo Moting al centro dell'attacco e c'è stato anche Neymar al centro dell'attacco, però diciamo che l'attacco titolare è Di Maria, Icardi e Mbappé in questo periodo, con Di Maria che è non propriamente un attaccante, è un esterno d'attacco, Sarabia che addirittura è un esterno anche di centrocampo quando gioca lui, quindi non parliamo di un vero e proprio 4-3-3 puro, ma quasi di un 4-4-2, anche se non è esattamente così, però vediamo che comunque è un attacco pesante, perché comunque Di Maria, Icardi e Mbappé è un attacco veramente pesante con tre attaccanti. Qual è il centrocampo che regge questo attacco? È vero che giocano in Francia, però parliamo di una squadra che comunque punta anche ai vertici della Champions, è Gueye, Marchignos, Verrati. Ora non ditemi che il centrocampo del Paris Saint-Germain è superiore a quello della Juventus, perché non andiamo d'accordo. Marchignos tra l'altro è un terzino, no scusate, non terzino, è un difensore centrale, è un difensore centrale adattato a mediano. E qui veniamo ad un discorso, qui veniamo ad un discorso che vi ho già fatto, che probabilmente il giocatore che stona nel nostro centrocampo come posizione, come compiti è Pjanic, perché lì serve un giocatore più difensivo. Ecco vedete il Paris Saint-Germain, e qui veniamo forse dal discorso, può darsi che il Paris Saint-Germain per reggere questo tipo di attacco si sia affidato ad un centrocampo più difensivo, con Gueye, Verrati e Marchignos al centro. Sicuramente, ripeto, il nostro centrocampo è superiore, ma sicuramente, cioè se metti Bentancur, Pjanic e anche Matuidi, sicuramente Matuidi è inferiore tecnicamente a questi tre, però non è tanto inferiore da andare a bilanciare la superiorità di Pjanic e Bentancur, per esempio, ma poi abbiamo anche Ramsey quando ci sarà a disposizione, quindi non possiamo dire che abbiamo un centrocampo troppo poco forte per poter reggere un tridente, osservando quello che fa il Paris Saint-Germain, con giocatori in qualche maniera simili, perché Di Maria possiamo paragonarlo a Douglas Costa o a Quadrado, Icardi possiamo paragonarlo a Higuain, e Mbappé possiamo paragonarlo a Ronaldo o Neymar. Mancherebbe Di Bale in questo discorso, ma pure Di Bale e Di Maria possono in qualche maniera essere paragonati, anche se hanno caratteristiche diverse. Capite che, e comunque anche in questo caso c'è un adattamento, perché Sarabia, per esempio, è stato adattato a fare l'esterno d'attacco, lui che prevalentemente è un esterno anche più arretrato, e comunque c'è bisogno di far coincidere, di far combaciare una serie di situazioni tra giocatori che non è che nascono per giocare insieme. Quindi un minimo di adattamento lo si può comunque tentare, e non c'è un centrocampo chissà di quale qualità per reggere questo attacco. E finiamo con il Liverpool, dove in realtà potremmo parlare per decine di minuti. Il Liverpool viene da lontano, Klopp ha lavorato tanto, ha costruito questa squadra con grandissimo lavoro, ma si è trattato veramente di un grandissimo lavoro di adattamento. Perché Salah è sempre stato, diciamo, un esterno, principalmente da 4-3-3, ma Firmino no, Firmino nell'Ofenheim era un trequartista, era un centrocampista offensivo. Come è finito a fare il falso 9? Come è finito a fare il vertice di un attacco a 3? Cioè è finito perché c'è stato un discorso di adattamento delle caratteristiche, non alle caratteristiche. E quindi vedete che il limite delle caratteristiche può essere superato. Possiamo provare a romperlo. Questo limite è ad andare oltre, andare a costruire qualcosa di nuovo. Non solo, ma anche il centrocampo del Liverpool possiamo discutere se sia superiore al nostro. Io ho qualche dubbio, sinceramente, soprattutto per quanto riguarda Wijnaldum e Fabinho, che sono giocatori di tutto rispetto, che sono giocatori anzi molto forti. Henderson è uno che gioca nel Liverpool da una vita ed è sempre stato un centrocampista di grande quantità e di grande qualità, pur in sordina. E qui torniamo al discorso di Arthur. Se Henderson avesse giocato nel Barcellona sarebbe famosissimo, sarebbe fortissimo e sarebbe lanciato nelle classifiche anche per quanto riguarda le valutazioni di mercato. Giocando nel Liverpool da sempre, non avendo subito trasferimenti significativi, è emerso da poco, ma in realtà era già forte prima. Così come Fabinho, che pure lui è un difensore adattato, cioè Fabinho sa fare il terzino, come Marchinhos sa fare il difensore centrale e lo ha fatto in carriera. Quindi anche qui c'è l'adattamento e vedete il vertice, il giocatore al centro, il fulcro del centrocampo, non è un ex trequartista, non è un ex mezzala offensiva come Pjanic. È tutt'altro, è un difensore che viene messo lì. Allora, se c'è un discorso di reggere il tridente, oltre al discorso degli adattamenti da fare, secondo me rispetto alle caratteristiche, è un discorso che va fatto con una maggiore propensione difensiva del centro del centrocampo, del centrocampista centrale, non delle mezziali che devono fare poi un lavoro chissà quanto difficile, come Sarri ha spiegato più volte quando siamo passati dal 4-3-3 al 4-3-1-2, perché poi adesso, ecco, stiamo parlando di questo, abbiamo il 4-3-1-2, in cui, dice Sarri, gli interni, scusatemi, di centrocampo, le due mezziali sono chiamate ad un lavoro un po' più complicato, anche molto più complicato, rispetto a quello che devono fare nel 4-3-3. Quindi, dice, stiamo complicando la vita. Ora, ripeto, l'ho già detto ieri, non vi ho già parlato, non sto qui a dire spostiamo Pjanic-Mezala, come vi dicevo l'anno scorso, perché mi sta anche bene tenerlo lì, purché però ci siano delle mezziali che abbiano dei compiti più che delle caratteristiche, anche delle caratteristiche, perché per esempio con Matuidi non vai lontano, ma dei compiti, soprattutto, di sostenere la fase difensiva di gruppo, collettiva, con compattezza, però poi il tridente lo puoi fare, il tridente lo puoi schierare. E quindi l'adattamento che sarebbe necessario, probabilmente inciderebbe più su Dybala che su altri, perché Dybala dovrebbe adattarsi a fare l'esterno a destra, sicuramente con anche la caratteristica di abbassarsi, ma lo puoi andare a bilanciare mettendo qualcuno di maggior profondità a sinistra, che d'altra parte regge il fatto che Ronaldo parte defilato a sinistra, ma mai troppo basso, sempre rimanendo in avanti, difendendo poco, e quindi vai a sbilanciarti un pochino sulla sinistra, ad essere un po' più asimmetrico, perché a destra hai Dybala che ti fa, tra virgolette, più copertura, nel senso che copre più ampie porzioni di campo, anche venendo dietro, e quindi la mezzala a destra può essere più statica, a sinistra la metti più in proiezione offensiva, ma comunque è un tridente, con Iguaino al centro dell'attacco. L'opzione poi Dybala centravanti, quando riposa Iguaino, quando vuoi mettere Douglas Costa, o quando vuoi mettere Quadrado, e volendo puoi anche permetterti di far riposare Ronaldo, perché puoi mettere Douglas Costa a sinistra, Bernardeschi a sinistra, non trequartista, e mettere magari poi al centro Dybala, al centro Iguaino e Dybala dall'altra parte, insomma le opzioni ci sono, anche se l'ideale sarebbe avere un tridente d'attacco fisso, come quello dell'Irpool, come quello del Paris Saint-Germain, e che è un po' più variabile, o come quello del Barcellona. Insomma, non so se il mio discorso è totalmente insensato, o senza né capo né coda, ho provato ad entrare in quello che sono i tridenti pesanti di tre squadre significative, poi avrei potuto fare anche altri esempi, magari più calzanti, ditemi come lo pensate nei commenti, se questo discorso ha senso, se possiamo effettivamente trarre da esperienze e squadre d'Europa ad alti livelli, come Barcellona, Paris Saint-Germain e Liverpool, qualche cosa per entrare nel discorso tridente e per fare noi il tridente che in questo momento stiamo rinunciando a fare, stiamo rinunciando ad utilizzare, in favore di un 4-3-1-2 che non convince. Ditemi la vostra nei commenti, grazie intanto per l'attenzione, come sempre vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!